Elena S.A.N.T.A.R.E.L.L.I. spiega, che il figlio Giacomo ha un tumore cerebrale. La bionda lo fa con un post scritto a corredo di una foto, che ritrae il marito Bernardo Corradi insieme a Cristian Vieri Elena, infatti, ringrazia Bobo per il sostegno, che sta dando alla ricerca.La Santarelli spiega il tipo di tumore, che ha colpito il figlio Giacomo, 9 anni Lo scrive su Instagram dopo aver ringraziato Vieri che sposa un lodevole progetto di caritti con la E.A.L.O.L.S. durante il Bobo Summer Cup Questa associazione, in collaborazione con l'ospedale Bambino Gesù di Roma sottolinea Elena sostiene un progetto di ricerca per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali, i tumori solidi più frequenti tra i bambini, 400.450 casi ogni anno in Italia A nostro figlio è stato diagnosticato un tumore cerebrale il 30 novembre racconta la Santarelli, e da quel giorno fiduciosi combattiamo per lui, e con lui insieme a tanti altri bambini Così come lo è stato per noi, il profilo di metilazione è importante per la maggior parte dei bambini colpiti da tumore cerebrale Io e il mio marito conclude Elena saremo presenti il 12 agosto alla tappa finale della Bobo Summer Cup per contribuire alla riuscita di questo evento fantastico